Tra le esperienze che segnano la maturazione del sistema filosofico di Schopenhauer, c'è senza dubbio anche l'incontro con Goethe, che all'inizio dell'Ottocento era all'apice della sua fama. I due si conoscono a Weimar e stringono un forte sodalizio intellettuale. Goethe non era solo un grande letterato, ma anche un appassionato di scienze naturali e nel 1810 aveva scritto un breve saggio sulla teoria dei colori. Il suo intento era contestare la teoria di Newton, secondo cui i colori, in quanto onde, sono tutti contenuti nella luce bianca. La sua tesi era invece che la genesi dei colori è nella polarità di luce e oscurità. Schopenhauer, stimolato da Goethe, prosegue questa riflessione sui fenomeni cromatici e nel 1815 scrive uno studio in cui prende pubblicamente posizione a favore del maestro, proponendosi però di completare il suo lavoro. Goethe, infatti, sostiene il giovane filosofo, fa l'errore di partire dall'oggetto anziché dal soggetto. Invece, secondo la tesi di Schopenhauer, la percezione dei colori dipende dalla struttura dell'occhio che vede. Quando legge il manoscritto, Goethe, poco propenso a farsi correggere dall'allievo, interrompe la loro collaborazione e Schopenhauer, deluso pubblica autonomamente il saggio sulla vista e i colori. Tuttavia, l'amicizia tra i due lascerà il segno nel capolavoro filosofico di Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione, che avrebbe visto la luce da lì a pochi anni. Il filosofo aveva certamente parlato con Goethe della direzione in cui si stava muovendo la sua riflessione e la sua metafisica riprende alcuni dei grandi temi che li univano, come la ricerca dell'elemento originario comune a tutti gli esseri viventi. Non è un caso, d'altronde, che l'opera si apra proprio con una citazione di Goethe. La natura non cerca forse, in fondo, di conoscere se stessa.